La solidarietà che non frana. Nel Terramano l'8 marzo, la festa della donna, si festeggerà a Ponzano di Civitella, ristorante Ermocolle, dove si svolgerà una serata di beneficenza con raccolta fondi per le popolazioni civitellesi colpite dal dissesto idrogeologico più spaventoso degli ultimi cento anni. Civitella comunque nel contesto, cioè Ponzano, ma comunque tutta Civitella, Civitella capoluogo, il suo territorio, continua ad essere quello che era prima, con tutte le difficoltà naturalmente che abbiamo, però a livello storico, culturale, di bellezza architettonica, Civitella è quella che era prima. L'iniziativa benefica è stata organizzata dall'Associazione Culturale Nina Onlus in collaborazione con il BIM, con il patrocinio del Comune di Civitella del Tronto e del Museo NAC. Il programma consta di una cena spettacolo, durante questa cena ci sarà Stellina accompagnato dagli intoccabili, io sono uno degli intoccabili, faremo quindi uno spettacolo che va dalla musica al cabaret e poi ci sarà anche una sorpresa che sarà uno spogliarello, essendo una festa della donna, però sarà uno spogliarello speciale, poi i dettagli li sveleremo proprio all'ultimo momento perché abbiamo delle sorprese particolarmente interessanti, quello che conta è che ci siate tutti, che ci veniate a trovare e soprattutto che contribuiate a questa causa che è una causa importante. Le frane sono peggio del terremoto e quindi come abbiamo avuto la possibilità, insomma come questi due, questo grande artista locale nostro che sentito sul territorio ci ha detto che voleva gentilmente aiutarci, subito abbiamo creato un insieme di, una fusion tra la nostra, che è un'associazione che si occupa solo e scusamente del territorio, perché sapete il museo nasce per raccontare il nostro territorio e quelle che sono oggi le problematiche esistenti. Grazie a tutti.